Tra negativizzazioni, trattative per l'accessione della società e calcio-mercato, continua la marcia del Monopoli verso la ripresa del campionato, fissata per domenica 23 gennaio, sul campo dell'Avellino dell'ex carriero. Il presidente Laricchia sta continuando il suo dialogo con il gruppo americano pronto ad entrare in società e dentro il 28 febbraio si potrebbero avere novità significative. Per quanto riguarda gli allenamenti, sono rientrati in gruppo i due calciatori negativizzati, le attuali positivi sono tre e dopo aver ricevuto la terza dose di vaccino il team di Colombo viaggia abbastanza sereno verso il rientro. Tiene sempre banco il calcio-mercato, con l'accessione di Riggio serve un quinto difensore centrale, magari un giocatore duttile che possa ricoprire più ruoli. E' tornato di moda il nome di una vecchia conoscenza del calcio monopolitano, quella ristrota che ha fatto innamorare il pubblico bianco-verde grazie alla sua grinta fino alla stagione 2019-2020. Poi il passaggio alla Carraresi, un anno sfortunato con un brutto infortunio al crociato e il campionato attuale dove, dopo un inizio incostante, è diventato titolare fisso negli schemi del tecnico Totò Di Natale che lo utilizza da difensore centrale nel 4-3-1-2. Il giocatore ha un contratto fino a giugno 2023 con la società toscana che al momento non lo reputa in uscita. Le vie del mercato però sono infinite e il greco potrebbe ascoltare le sirene della società che lo ha fatto maturare in Italia.